La prima tappa di un evento importante che viene ospitato da Pescara Senior City e Pescara Baby City che erano le due manifestazioni che venivano svolte dalla Camera di Commercio, dal Confesercente in compartecipazione della Camera di Commercio su Pescara. Quest'anno si è deciso di unificare le manifestazioni e di ospitare questo tour importantissimo che prevede moltissime attività di prevenzione. L'obiettivo prevenzione è un obiettivo importante che tutti quanti devono raggiungere, per cui insieme ai professori che verranno coinvolti dai vari ospedali, dalle università, si farà tutta un'attività di prevenzione e di screening all'interno di questo evento. Quindi sab domenica, un momento importante per i bambini e per gli anziani, ma in generale per tutti, per conoscere anche tutte le opportunità che vengono offerte dal tour della salute. Cosa vedremo in questi due giorni alla Marina di Pescara? Allora vedremo il salone del bambino e della famiglia, Pescara Baby City, dove ci saranno divertimento, intrattenimento, sport, animazione, ma anche salute e informazione per i genitori. Quindi tante cose, poi avremo Pescara Senior City con anche lì la stessa formula, quindi divertimento, intrattenimento, senior a questo punto, ma anche molta salute anche lì, perché avremo Federpharma che come ogni anno si occuperà di fare tantissimi screening gratuiti di prima istanza. Quindi parliamo di MOC, spirometria, audiometria, pressione oculare, insomma saranno tanti screening utili per le persone che vorranno approfittare in questo sabato e domenica di sole. E come diciamo prima in conferenza stampa, prevenire significa star bene, stare bene più a lungo possibile.